Buongiorno a tutti, qui Ardino Schenato, sempre da Yardforex.com e questo è un video dedicato, come ormai ogni sabato, a euro e dollaro. Anche questa settimana mi sembrava doveroso andare a rivedere che cosa sta facendo questo cambio, anche perché è uno dei cambi che sto seguendo con molti approfondimenti, anche con dell'operatività, ma è anche il cambio che ho sempre tradato e quindi conosco alla perfezione. Avendo fatto alcuni video negli ultimi tempi dedicati appunto a questo cambio, la situazione non è ancora cambiata, però ci sono delle cose che vorrei puntualizzare su questo video. Allora, adesso partiamo, ovviamente prima di partire vi chiedo se potete lasciare un mi piace alla fine del video, se poi questo video vi farà, vi sarà servito e vi farà da supporto all'operatività, nonché anche quello di iscrivervi al canale, se ancora non siete iscritti a questo canale. Bene, andiamo a vedere, allora, l'euro e dollaro apro bene, perfetto, apro un po' tutto, così vediamo che cosa ci sta dicendo, no? Questo euro e dollaro, che lingua sta parlando. Allora, intanto ricordiamo che la settimana scorsa avevamo avuto un bellissimo settimanale con un FTV, doppio massimo lower, che è ancora attivo, che è ancora assolutamente nell'ottica precedente, quindi nell'effettuare un movimento ribassista. Devo dire però che questa settimana io al momento sono uscito dalla mia operazione short che avevo fatto. Sono uscito perché, su grafico giornaliero si vede molto bene, eccolo qua, al momento quello che si è venuto a creare in ottica proprio di quello che mi sta dicendo il mercato, quindi cercando sempre di ascoltare quello che ci sta dicendo il mercato, si è venuta a creare una pin bar, questa che vedete qui, qui, apro la pennetta così riesco ad essere più efficace nella mia spiegazione, ecco qua, questa qui che vedete qui, venerdì, ieri, è andata a violare i minimi settimanali, ma se poi andiamo a vedere un po' più nel più piccolo, quindi su un grafico daily, per me il grafico daily è il grafico piccolo, abbiamo una falsa rottura al momento di questo minimo e recuperata con una pin bar. Questa cosa ovviamente dobbiamo contestualizzarla e quindi ha il peso che ha, non è che adesso io mi metto longer su euro dollaro, perché non ci sono i presupposti al momento a mio avviso, vedendo anche ovviamente un grafico settimanale, però guardiamo, abbiamo appunto questo trend, avevamo avuto questa situazione, quindi falsa rottura qui, e poi la falsa rottura qui, che creiamo l'attività, insomma tutto quello che abbiamo detto anche nel video precedente, della settimana scorsa. Solo che questa cosa qui per me, che sono short e faccio un trading di breve termine, cercando di ascoltare, ripeto, sottolineo, ascoltare quello che mi dice il mercato, ho voluto ascoltarlo, uscire con un piccolo profitto al momento, e magari rientrare, magari inizio settimana, non lo so, vedremo su un'ulteriore conferma che il mercato in effetti non ce la fa a stare troppo sopra. C'è una cosa, allora andiamo a vedere, in questo caso specifico si è formata appunto, andiamo a vedere quindi nel piccolo, negli ultimi settimane, questo range, perché di base questo qua diventa un trading range, che prende come parte alta, diciamo, la zona 1.16.50, 1.16.60, e la parte bassa, questo 1.15.30, diciamo, 1.15.30, 1.15.25, 1.15.40, questa è la zona qua. Allora, ovviamente abbiamo due volatilità importanti rosse, questa barra qui e questa barra qui, questo è anche un doppio massimo lower, quindi adesso stiamo ritracciando nella zona di pullback, diciamo, di questa barra, solo che arriva con una falsa rottura e con una pin bar, e quindi io vorrei andare a capire con voi, nel caso in cui venga questa pin bar, venga convalidata al rialzo, quindi tra lunedì e martedì ci sia la rottura del massimo, ricordo questo perché, perché se lunedì, per esempio, dovessimo neanche rompere i massimi e scendere, benissimo, non ci sarebbe nulla da fare, nel senso che il mercato continua la sua via, però con una situazione del genere potrebbe avvenire una rottura del massimo. Se rompe il massimo e quindi si convalida questa pin bar, che è anche un last kiss per me, se si vengono convalidate, quindi diventa uno swing low facilmente, con un trigger, andiamo a vedere che tipo di dinamica, di prezzo, si potrebbe venire a verificare, a livello proprio di estensioni percentuali, di questo swing. Quindi vado qua, e vado a vedere che tipo di situazione avviene. Vedete come questa pin bar potrebbe avere come primi livelli di target, chiamiamoli così, in realtà sono tre, ci guardiamo bene, sono il primo che è questo, che credo sia il più fattibile, ed è l'area 130-90, quindi 1,1590 circa, 1,1590 e due e mezzo, comunque 1,1590 è il primo punto dove questa potrebbe portare, poi magari da qui ritornano i venditori, e io potrei rimettermi in vendita, un po' più basso di dove ero prima, ma con una conferma in più, per andare poi a fare una buona operazione. però poi abbiamo, vedete, questa che è una zona particolarmente importante, appena sopra 1,16, 1,1611, quindi 1,1610, che risponde ai massimi fatti nelle ultime giornate, quindi il fatto che si possa riandare qui, e poi essere ributtati giù, è possibile, quindi io, avendo una posizione, io posso decidere di entrare, a un prezzo diverso, quello che avevo prima, però con un'ulteriore conferma, quindi primo obiettivo, che questa barra potrebbe, far portare, è 1,1590, secondo 1,1610 circa, che sono i massimi precedenti. Questi due livelli, 1,1610, 1,1620, abbiamo, vedete, delle zone particolarmente importanti, che sono assolutamente possibili, testabili, diciamo, quindi queste due sono zone importanti, nelle quali, se ci dovessero essere delle conferme short, probabilmente potrei pensare di mettermi corto. non andrei adesso al momento più in alto, di queste zone, almeno a livello di pullback, perché troppo in alto, anche se in effetti, ci sono altre aree importanti, direi che poi magari, diventa anche magari, lunga, cioè il movimento di euro-dollaro, a meno che non faccia una volatilità, in un giorno enorme, ma l'euro-dollaro lo conosciamo, e sappiamo quanto, insomma, può muoversi più o meno, no? Tranne certe situazioni, tipo questa, però non credo che lunedì, possa avvenire una roba del genere. Un'altra cosa però, che può fare confluenza, e quindi andiamo a prendere, è tutta questa gamba, cioè la gamba che prende, da il massimo qui, al minimo qui, cioè questa gamba, questa, qui già aveva fatto così, il ritracciamento di questa, ma questa gamba qui, da qui a qui, che tipo di dinamica, di, cioè che tipo di percentuale, di ritracciamento ha, ecco questo è quello che volevo dirvi, quindi andiamo a prenderle, notiamo come, il 50%, e il 61,8, quindi la zona che passa, praticamente appena sopra, uno 16,20, e appena sotto, e quindi uno 16, è la zona che passa, tra il 61,8 e il 50%, del ritracciamento di tutta questa gamba, perché se la guardiamo bene, alla fine questa è una gambona, no? Cioè se questo diventa swing, se rompe i massimi, perché io sto sempre parlando, del fatto che questa deve rompere i massimi, ovviamente, perché se non li rompe, non viene convalidata, quindi se questo diventa uno swing, alla fine questa è la gamba da prendere, questa, perché questo è un ritracciamento all'interno della gamba, sono inside queste, movimento che può essere, verso l'alto, e quindi la zona che passa, e come vedete, tra 1,16 e 1,16,20, diventa la zona target, di quella pinball con falsi minimi, ci abbiamo fatto anche un corso, il primo Price Action Trader Day, qualcuno c'era, ed è interessante, quindi diciamo che potrebbe anche essere un setup long, però bisogna fare attenzione, perché abbiamo il settimanale, che parla una lingua più short, quindi cerchiamo sempre di lavorare tra i due, questo è un time frame che ci indica cose di più breve, però che possono avvenire, quindi io sinceramente sono uscito dalla mia posizione short, che avevo, e posso rientrare magari su un ulteriore swing, che possono fare i prezzi, non andrò long, non credo che andrò long qui, anche perché ho già un posizionamento long su un mercato, diciamo, che comunque potrebbe essere correlato negativamente, in un certo modo con l'euro-dollaro, quindi che è l'argento, che ho spiegato nel Platinum, e quindi al momento non mi interessa mai mettermi long qua, perché ho già un'altra cosa che va un po' più su quella direzione, seppur non correlata in modo matematico, però qui potrebbe essere invece buono per un allungo verso, ripetiamo, tra 1,15 e 90 e 1,16 e 20, beh, lì allora potrebbe diventare molto interessante, ricercare un ulteriore setup short per l'euro-dollaro, questo sarà il mio programma operativo, diciamo, per la prossima settimana sull'euro, quindi cercare di trovare nel ritracciamento, diciamo, possibile ritracciamento, nel caso in cui si venga a violare sui massimi, in questa ecco che la zona tra 15,90 e 16,20 è la zona dove andrei a, diciamo, lavorare, andrei ad approfondire, e se ci dovessero venire a creare dei setup, dei trigger short del mio piano di trading, magari anche lavorarci su, quindi perché no anche vendere euro-dollaro, con l'obiettivo che avevamo, quindi l'area diciamo 1,14 e 40, 1,13 e 70, come prime due aree importanti di arrivo di questo movimento short, quindi diciamo che la negatività di questo mercato, cioè la forza ribassista è molto imponente, ancora adesso, non è che questo annulli nulla, però questo può portare a un ritracciamento, quindi da trader di breve termine, assorbo, capisco, incasso quello che c'è da incassare, e magari riprendo, nel caso in cui invece faccia altro, quindi scenda e basta, vabbè, ho altro, nel caso in cui non faccia un movimento così ampio, quindi magari fa solo una falsa rottura e rientra, potrei pensare comunque di vendere ancora, questo è comunque un qualcosa che mi inserisco nella mia possibile, diciamo, operatività, però io credo che questa situazione, cioè il fatto che questa PIN con falsa rottura, possa portare nei primi giorni della settimana prossima, un movimento leggermente, mediamente rialzista, è possibile, quindi lo valuto, e cercherò di comportarmi, lavorando su quelle che sono le dinamiche di prezzo. Bene, anche per oggi direi che abbiamo approfondito l'euro-dollaro, io spero che vi serva, soprattutto a livello didattico, capire anche un po' come approccio il mercato, direi che per oggi è tutto, io vi auguro ovviamente un ottimo weekend, e un buon Trading Simple per la prossima settimana, ovviamente noi ci vediamo sempre il lunedì e il mercoledì, con le varie live sul canale. Grazie a tutti, un saluto, a presto.